arrivo della madonna del carmelo a porto salvo fumogene da stadio ora è la stessa cosa Giovanni fa un momento dove andiamo tutti i colori fumogene da stadio bravi 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 la madonna Carmelo abbraccia la campagna saluto alla campagna 10 platani bravi 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 nella sua vecchiaia ha concepito un figlio nulla è impossibile addio bravi guarda di me quello che tu hai detto bravi 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.